Ed ora spazio alla rubrica Cuore di Marca dedicata quest'oggi a giocare in corsia. Il gioco è una cosa seria, l'associazione Giocare in Corsia è una realtà serissima perché non c'è niente di prezioso come i bambini. È per questo che nelle attività rivolti a loro non si deve lasciare nulla all'improvvisazione. Ecco l'approccio di Giocare in Corsia, una costolativa di Lilt Treviso che nella rubrica Cuore di Marca racconteremo assieme al referente Roberto Michelon. Giocare in Corsia nasce come un comitato di assistenza di bambini nel 1994. Seguendo il percorso purtroppo breve di una bimba si è proprio sentito il bisogno di questa necessità anche di poter sostenere le famiglie e i bambini in momenti appunto drammatici. Poi un po' alla volta è evoluta sempre di più, portando prima il gioco e dopo di che le fiabe, i clown e quant'altro dentro nell'ambito della pediatria. Un esercito di volontari che garantisce le attività nella pediatria del caffoncello di Treviso 365 giorni l'anno. Noi adesso siamo ben 160 volontari a Treviso e tutti i giorni di tutto l'anno svolgiamo un'attività nel pomeridiano di laboratorio mentre il laboratorio vorrebbe dire praticamente creare dei manufatti creativi fatti dai bambini sempre con la presenza dei genitori, perciò è anche un momento di spago anche per la famiglia mentre poi alla sera ugualmente presentiamo dei giochi per favorire sempre lo stare insieme dei bambini e la socialità mentre invece andiamo nelle stanze con un'attività di fiabe animate e di clown, un'attività che viene svolta tutte le mattine chiamata Isola Serena dove un'educatrice di un nostro progetto accoglie i bambini dei surgery, cosa vuol dire? Questi bambini che hanno un'operazione chirurgica programmata vengono accolti dalla nostra educatrice, i bambini giocano, i genitori si tranquillizzano, di conseguenza cerchiamo di favorire a questo momento difficile della vita della famiglia nel modo più sereno possibile. Il nostro progetto è sempre dedicato che il bambino ha diritto a giocare anche in ospedale. La formazione è la base di giocare in corsia, tanto che dal 2011 al 2019 ha portato la propria esperienza in Ucraina e Russia per formare dei giovani clown pediatrici. Il Renzo è nostro vale i 25 e i 45 anni, perciò è un volontariato giovane, un volontariato estremamente impegnato anche perché essere in giocani in corsia noi pretendiamo molto, ovvero sia offriamo tutto gratuitamente ma nello stesso tempo pretendiamo che tutti i nostri volontari ogni anno devono partecipare ai corsi di formazione che noi organizziamo e svolgiamo. Immaginiamo che lo scorso anno abbiamo creato 34 momenti formativi, tanto per dare un'idea in un anno. Abbiamo davvero compreso che il gioco è una cosa seria. Non si può improvvisare, non ci si improvvisa clown, non ci si improvvisa lettori di fiave, non ci si improvvisa niente, perché i bambini sono le cose più preziose che abbiamo innanzitutto e sbagliare con un bambino è un errore enorme. E giocare in corsia compie 30 anni e la festa sarà il 13 ottobre presso il Teatro Comunale di Treviso. È possibile prenotare il biglietto contattando l'Ilt Treviso.